buongiorno coccodrilli occhio pecorizzato guardate che pecorizzata tanto le sveglie suonano grazie tutta è lui o non è lui certo che è lui lo schiso quasi di pecorizzato buon lunedì no vabbè sta pieno anche stamattina pienissimo incredibile nannaggia volevo dire che non arrivava sta pieno via via che sta pieno l'ho detto io che stava pieno mamma mia era il vento di portarti da me vorrei chiedere si illuminava gigi 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 toppa è strada e c'era un cantante mattina mi sento un cantante più del solito facciamo anche un sound check ci siamo ci siamo è lunedì tu stai là io sto qui oggi allenamento fatto tanto grosso grazie simone oggi esercizi nuovi e scherzo fate swipe per vedere gli esercizi con simone buongiorno 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 cazzo no c'è il prete davvero dove sta si scappa il prete son cavoli tuoi mamma mia ma guarda oggi che outfit ma oggi proprio mamma mia sembri il ragazzino eh vogliamo fan tik tok oh fan tik tok dai facciamo tik tok tipo fa 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 chi appa il cincilla no ma però così no è ma non metto la so che mi ha fatto male da un piede tranquillo no no adesso di scappa il prete chiedici come sta il mio tivo no alla rete alla finita la finita la finita dimora ci vuole la benedizione benedizio come si impotentis deus e te padre e te figli, speccatorimus, speccatorimus te sciacquoli cojone, scena cocorrito loretto qua sono reganati mi sono malemperato non muove col scopo eh eh no con questo alpinista non muovono alpinista ma muovono il mio padre io lo posso oggi è invitantissimo e guarda che il motore è il motore il motore è il motore è il motore è il motore è stato una bella indumina te lepiti metti da fare il salame ma fa un pennello ma si il pennello ti ha il culo si scappa il prete arrivederci si scappa il prete si scappa il prete si scappa il prete si scappa il prete credo che fai va ti ha fatto il culo nooo anche il prete chi ha morto il cincilla il suono della campagna è sceso dalla macchina si è sceso dall'auto si è sceso è sceso venditti al suono della campagna e quando sente la musica ma quando pensi che sia finita è proprio allora che comincia la salita eccole cominciano eeeh via vai via com'è fra ma è le campane tocca a fare il musico le minacce no quando c'è le campane quanto sono belle le campane del paese eh tan 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 no no non è uguale non è ripia sempre lì qui va via il vuole o no il ministro non ho ma mangia che non è quel tenere no io non ne voglio perchè mi ha messo la cadella non ti ha messo la cadella questo il vuole o no che c'è il prosciutto c'è il c***o è buono oggi ma che vuoi dire è buono una cosa ce l'ho detto io ma la sera c'è con la carne adesso mangia questo perché c'è messo il prosciutto oh c'è messo anche le cose di che gratte è buonissimo questo non mi fa male è buono ma non mi fa male c'è non è buono eeeh quanto è buono questo va via smettola a vedere lì non mi fa di 7 8 10 le stelle no 10 no però le dico perché mi rompi i c***o ma che ho fatto ma sto di qui dammi pace ma scusa ma perchè è la magna è la magna al minestrone attenzione sta nevicando incredibile riaprono tutti gli impianti sciistici soprattutto del c***o di che? del c***o mi sono anche impuntato c***o 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 c*** incredibile, oggi anche il pranzo da solo mi sono fatto, vai, polletto, detox, detox, per diventare un dogrussi, comunque stavo a riflettere che con tutte le parole che ci siamo inventati durante, insomma, la nostra esperienza su Instagram, tra me e nonno, tipo dormimo, arzughe, nevica, bolle, chi più ne ha più ne metta, lo schiso, sta pieno, l'essere stronzo grosso come quella a spiga d'oro, potremmo fare libricino veramente, e poi voi non immaginate la soddisfazione che provo quando vedo le vostre storie, oggi è un po' dislessico, quando vedo le vostre storie, dove mi taggate con tutte ste robe, cioè una soddisfazione pazzesca, portare quello che è a casa tua fuori e rivederlo nei social, bellissimo, top, mi è sempre piaciuto, però vi dico una cosa, se mi taggate, se avete il profilo chiuso, io non le vedo, quindi non mi scrivete, non mi è ripostato, a volte mi capita che qualcuno mi scrive, ti sto, ho pubblicato 100 storie, ti ho taggato, ma se c'è il profilo privato, come fa a vedere, come fa, quindi deve essere pubblico, come il mio pubblico, anche il vostro, che mi taggate, dovrebbe essere pubblico, poi, chiaramente, se voi volete fare i cazzi vostri, fate bene a tenerlo privato, ma non mi venite dopo la rompicoglione, che non v'ho ritaggato, mamma mia, sono poeta! Fausto, ha studiato? Sì, sì! Mi sa dire la legge di Keplero? La legge di Keplero vuol dire che anche la bionda c'è il pelo nero! Ma! Fa! 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 Ah no! Ogni volta che vuoi caca? Arrivi tu! Ho capito, come mai! Ha! Ogni volta che vuoi il bagno, ta! Certo, ma io ti controllo, no? Eh, senti? Eh, fa! Fa! Ma! 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 Eccoli, stanno arrivando, eccola, pronti? Eh non amari? Vedi quant'è bella, rossetto, smalto, al top, eccolo. Non c'è nulla, addirizzate questo affare, addirizzate questo affare, c'è caricato qualche scrofano, tutta la spalliera buttata giù, mandi le cazzate. Oh, madonna mia, sempre, mamma mia, mamma mia, per carità, non ti salisco più, santa il foglio di pane, vai, aiutami, mamma mia, che disgrazzate. Tutti pronti, oggi terapia per tutti, eh, francese, eh, nonna Marie, oggi terapia per tutti, eh, è vero? Vuoi fare anche il cappello? Vai, oh, fa vedere? Mettili un po' più giù, no? Oh, e la sta fermo, eh? Mettili più giù. Mi fa piacere le scappe, il po' che questo di qui vada a partire. Stiamo a scuola? Ma dove stai sulla costa crociere? MSC. Eh, nonna Marie? Francia, dove l'hai messa? Sulla costa crociere? A Dubai. Che crociera è? Un po' di crema, anche. Eh, sta fermo, scemo. Mettete un po' di crema. Ma non mi auguro il te. Eh, ma te sei tutto bosato. Sei cremato. Un po' di crema, no? Chi è il basso della tua vecchiaia? Eh? E se tu, tanto c'è più tanto. Stai zitto. Comunque. Vai, vai, andammo al top. Oh, vedi come abbiamo fatto le scale per bene? Oh. Ho messo la moglie su un cerchio e trovo. Eh. E ne do una da 80, ne volevo due da 40. È vero? Eh. Ma tazzina. Ma. E allora io che vorrei fare? È davvero? Quei capelli che c'è, bué. Qui. E' andata da troppo bene. Perché non è più caro, niente. Ma i capelli c'è? Ma tre. Guarda, 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 guarda. Ma metto la vabbana. Ma vai, vai, vai. Ma che circo? È Agriumbria. Eccolo. Eccolo. E' arrivo, fermate che arrivo. Fermate che arrivo. Fermate che ti rompo il pallotto lì. C'è ma mazza perci coglioni. Vieni una spigna invece di aiutarmi. Due, mica, mica. E' un po' sforzo non ce la veniva prima. C'è sto stronzo che invece di venire ad aiutare, io inoltre con l'idea che mi viene ad aiutare, viene una spigna. E' vero, Filippo? Ma che è vero? Tutte bugie. Io vengo per aiutarlo a scendere. E noi. Guarda come mi tratta. Ma perché tu la tratta bene? E pensai che era una volta il bello. Lo de Roma. Ma perché vedi che c'entra la macchina? Vabbè, vabbè. Andiamo a sentire. La sentire? Perfetto. È arrivato il temporale. E' la vista bene. Oggi cantano. Oh, ora sì. Si è comportato sti minuti male. Malissimo. Io non vorrei infierire sul cadavere, ma si è comportato malissimo. No. Mena sempre, botte, calci. Ma questo che... Ma oh, fermati. Ma ne hai capito allora? Ma è... Ma è... Ma è tu con calcio, non dico io? Oh, tu ne hai capito. Qui in tanti me lo stanno chiedendo dove è Massimo Boldi? Ancora, eh? È a Napoli. È a Bacoli ancora. A Bacoli. Ancora è in vacanza. Ritornerà tra poco, tra noi. Tra poco tra noi, Massimo Boldi. Sì, sì. Tra... Il 3 settembre rientro. Vediamo che questo è l'unico teatro all'aperto. Gratuito. Gratuito. E improvvisato. Vedi che insieme anche ci ricordatevi. Vedi, vedi. Eh? Ricordatevi sempre. In tutta Italia e nel mondo. Improvvisato. Io vò, io vò, oh, io vò, oh, io vò, oh, io vò, oh, no, oh, grappa, signora in cantina, più umbriaco di prima, ma nera questa, nera questa, nera questa, nera Sì. Giornata storica. Si torna a fare una sgambatura in un campo da calcio a 11 con una squadra di qua. Insomma, vado a fare un allenamento easy. Farò solo la partitella però, ragazzi. Vi sono a giocare stasera. Scarpa aperte, vedi. La scarpa aperte, la trekking ci vuole per il campo. Guarda che campo. Presidente, il presidente della squadra. Che calore. Guardate. Sì, in quadra. In quadra via. ma cazzo ma già che inquadra te tantissimi anni torno su uno spogliatoio di calcio eccolo che spogliato buona guarda che qua dici sembro Roberto Karnos guarda la qualità ma che qualità c'è sul piatto che è la qualità che stai facendo che schifo è cacciato a voi questa no la lascio la lascio adesso vediamo la qualità eccolo presso e tu col boccione cazzo ridi io veramente che atleta c'è ci viene fatto il fartlek che t'ho massacrato vedi il vino